Dal 26 al 30 dicembre e dal 5 al 6 di gennaio ritorna Betlemme agli Angeli, il presepe vivente che si svolgerà al quartiere Angeli. Dopo gli anni di sosta a causa Covid, la parrocchia di San Domenico con il patrocinio del comune di Caltanissetta ripropongono il presepe vivente tra le stradine del quartiere arabo, che nei giorni sopra citati riproporranno gli usi che portarono alla nascita del Signore a Betlemme. Infatti, uno dei punti che l'amministrazione intende portare avanti è la promozione turistica e culturale della città e tale obiettivo passa anche attraverso la conservazione, la conoscenza e la divulgazione delle antiche usanze folcloristiche e delle produzioni artigianali.